Meno 28% in Italia, meno 37% in Veneto, meno 31,7% in provincia di Belluno, con punte record in Valbelluna. Gli sportelli bancari sono sempre meno e la tendenza da anni sembra inarrestabile. La presenza fisica delle banche continua a ridursi e ad essere penalizzati sono gli utenti finali. Il bellunese ha perso il 31,7% di sportelli, in particolare passato da 161 a 110. La cosa che vorrei sottolineare è che questo diventa un problema veramente sociale. Il problema evidenziato dal sindacato non riguarda solo la difesa dell'occupazione, tanto che alla campagna nazionale chiusura filiali no grazie hanno aderito i comuni per il tramite del lanci. Le motivazioni della desertificazione bancaria sono note e sono legate anche alla digitalizzazione che ha ridotto la necessità di un presidio fisico del territorio. Su una media generale bellunese del 31,7%, l'NTI, in Borgo Valbelluna, vi è un 50% che si è passati da 10 sportelli presenti a fine 2015 a 5 sportelli. Teniamo conto che anche attorno sono stati chiusi vari sportelli bancari. E questo chiaramente è un problema. Il primo marzo Wilkawil sarà in piazza a Lentiai per confrontarsi con la gente e gli amministratori locali perché, spiega Elisa Carletto, non possiamo accettare passivamente questo trend. Quindi primo marzo iniziamo l'iniziativa con un grosso igloo. Arriviamo nella piazza di Lentiai. La mattinata, dalle 10 alle 1 e mezza, noi saremo lì e ci sarà anche la presenza del sindaco e degli enti locali. Grazie. 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 Grazie.